Amici di Pro Mirrorless, oggi vi parlerò dell'obiettivo della Tamron. Tamron è già un po' di tempo che produce obiettivi dedicati alle Sony Mirrorless sia full frame sia APS-C, perché come sapete bene la baionetta, l'innesto e il medesimo. E ultimamente sta cominciando a produrre anche obiettivi per le Nikon Mirrorless, quindi un produttore di ottiche universali che si sta affiancando a Sigma, Sigma è già tantissimo tempo che produce obiettivi per terze parti, dedicati appunto alle Mirrorless, quindi Sony si sta avvantaggiando ancora di più sotto questo aspetto, la scelta di obiettivi per le Mirrorless Sony è veramente amplissima. Tamron, Sigma, ce ne sono un po' per tutti i gusti, ma sta cominciando a produrre anche per Nikon. A parte questa è questa piccola parentesi, vi dicevo oggi proverò un obiettivo della Tamron, ci è stato fornito gentilmente dall'importatore Polifoto, è il nuovo Tamron 50-400, qui lo vedete installato su una Sony A7R2 che è la macchina che solitamente utilizziamo per i test. Purtroppo non abbiamo una macchina Sony iperveloce tipo una 1 o anche una 9 per provare al 100% l'efficacia dell'autofocus, autofocus che a detta di Tamron è molto efficace essendo un motore molto prestazionale quello installato su questo 50-400. 50-400 è un obiettivo che ha un'amplissima gamma di focali che parte dal normale, classico normale, per arrivare a un tail abbastanza spinto. E' un obiettivo che parte da 4,5-6,3. questa apertura variabile permette comunque di mantenere compatto l'obiettivo e comunque 6,3 a 400 mm tenendo conto delle prestazioni dei sensori più recenti non c'è un grosso problema per innalzare gli ISO più di tanto e comunque permette di avere un agevole utilizzo anche a mano libera dato che questo obiettivo è dotato di un sistema di stabilizzazione molto efficace, lo andrò a testare su una Sony A7R2, A7R2 daremo in sé l'obiettivo, lo proverò a 400 mm quanti valori di stabilizzazione, certo che su una A7R3, una A7R4, una A9, una A1 la stabilizzazione sarà ancora più efficace. Adesso poi vi descriverò in dettaglio come è costruito l'obiettivo, come è assemblato e comunque appena presi in mano mi ha dato sicuramente un'ottima impressione. Diciamo che è un obiettivo in teoria abbastanza economico come fascia di mercato ma devo dire che è costruito bene. Prima di andare avanti a parlare di questo Tamron, di questo nuovo Tamron, vi ricordo di fare l'iscrizione al nostro canale e di spuntare la campanellina. Sarete così avvisati ogni volta che uscirà un nuovo articolo, una nuova recensione. Noi di ProMilus parliamo a 360 gradi di fotografia quindi non solo prove tecniche, parliamo di grandi autori, riflessioni fotografiche, tantissimi spunti e arriveranno anche tante altre novità. Nella parte testuale di questa video recensione troverete anche dei link che vi portano alle pagine di quattro corsi. Corso dello scatola stampa Fine Art, corso bianco e nero Fine Art, corso composizione Fine Art e il nuovissimo corso Master Flash che vi svelerà un po' i misteri di questo sconosciuto. In tanti magari comprono il flash, lo mettono nella borsa e si dimenticano di averlo, ma è uno strumento che vi potrebbe, anzi vi farà sicuramente elevare tantissimo la resa delle vostre fotografie. E comunque fa parte della cultura fotografica, perché sì sono importanti i mezzi, importante questo tamro, importante la macchina, importante conosce a livello tecnico, però la cultura fotografica è secondo me di ProMilus basilare, assolutamente. Allora continuiamo a parlare di questo tamro, ve lo descrivo un po' in dettaglio. L'obiettivo vi dicevo è un 50-400, all'angolo di campo da 46 gradi a 6 gradi, quindi è un 8x, quindi quasi uno super zoom, diciamo che solitamente si trovano i 100-400, tamro ha allargato la focale senza arrivare a 50 mm. Una cosa particolare è che a 50 mm la minima distanza di messa a fuoco è di 25 cm e si ha un rapporto quasi, è un macro, di 1 a 2 e farò un paio di scatti per vedere qual è la resa a questa minima distanza. A 9 lamelli di diaframma, quindi mi aspetto un bello sfocato, certo le lenti sono tantissime, sono 24 elementi in 18 gruppi, però staremo a vedere come se la cava anche sullo sfocato, specialmente quando si lavora sulle lunghe focali, ottenere un bello sfocato non è scontato. Il tipo di zoom, vi dicevo è uno zoom a una ghiera esterna, a una abbastanza solida devo dire, non è per niente facile andare a cambiare la lunghezza di questo obiettivo, quindi la durezza è giusta, è stabilizzato, vi faccio vedere il ponte di comando. Abbiamo uno switch che permette di abilitare due posizioni da off a posizione 1 a posizione 2, la posizione 1 è la classica stabilizzazione standard su tutti gli assi, la posizione 2 è una stabilizzazione che assorbe un po' meno batteria da parte dell'obiettivo e diciamo c'è meno controllo visivamente, quando guardate nel mirino l'immagine è leggermente meno stabilizzata e può andare benissimo per dire per il panic. Abbiamo poi un interruttore custom a tre posizioni perché questo obiettivo è customizzabile, difatti si trova la presa usb dove tramite un'app specifica di Tavlon, una Tavlon Utility, potete andare a settare vari parametri, queste tre posizioni ma anche la velocità per dire della della messa a fuoco, della ghiera di messa a fuoco, ghiera di messa a fuoco che diciamo che è una delle poche cose che non mi ha soddisfatto pienamente di questo obiettivo perché è troppo fluida, l'avrei preferita un po' più frenata. Questo obiettivo chiaramente consiglierei di utilizzarlo su un anello per tre piede, non è fornito in dotazione però con circa 140-150 euro ha anche lo zoccolino Arca, vi consiglio perché comunque è un obiettivo che pesa 1155 grammi e vederlo appeso sul bocchettone di una Sony o di qualsiasi mirrorless non è il massimo. Le dimensioni sono 88 mm x 183, chiaramente quando si allunga la misura arriva circa su 350 mm, il diametro filtro è da 67 mm quindi non eccessivo, è tropicalizzato, difatti si può notare l'anello di tropicalizzazione, è materiale fondamentalmente, materiale di costruzione è una resina particolare ma mi dà una bellissima sensazione, trovo anche pochissimo gioco quindi costruito veramente bene allungando l'obiettivo alla massima focale il gioco veramente minimo. Quindi complementi a Tamron anche perché il prezzo non è eccessivo tenendo conto della gamma di focali coperte e andremo a vedere adesso come funziona. Andremo a vedere un po' un po' tutte quelle che sono le sue prestazioni, in particolare mi concentrerò su quello che è la nitidezza a varie gambe di focali e varie aperture per vedere se questo obiettivo spinge tanto specialmente a tutta apertura dato che l'apertura massima non è troppo elevata e quindi sono curioso di vedere se già a tutta apertura al centro ai bordi la nitidezza sarà buona, quindi nitidezza, nitidezza a media distanza, farò un paio di macro a 50 mm, andrò a controllare quelli che sono le aberrazioni, il flare, lo sfocato eccetera eccetera. Alla fine farò le mie conclusioni dicendo quelle che sono state le mie impressioni girondolando per la mia città, per Parma, con questo obiettivo e la Sony A7R II. Iniziamo valutando la nitidezza del Tamron 50-400 a infinito. Allora andiamo a confrontare adesso due fotogrammi, a sinistra 50 mm tutta apertura 4,5 mm e a cinque segni, abbiamo ingrandire del 200% e possiamo notare già che a tutta apertura, al centro del fotogramma, la nitidezza è molto elevata. A 5,6 mm si guadagna un po', andiamo a dare un'occhiata ai bordi, i bordi come vedete sono leggermente impastati a 4,5 mm, comunque la prestazione è più che sufficiente, a 5,6 mm c'è già un certo guadagno, andiamo a vedere dall'altra parte, ecco in questa zona qui si nota ancora meglio, leggermente morbidi a 4,5 mm, a 5,6 mm c'è già un notevole step. Andiamo adesso a vedere, a confrontare 5,6 mm e 8 mm, al centro direi che la prestazione è sempre molto molto buona, andiamo a vedere i bordi, c'è ancora un incremento, vedete, non notevolissimo, comunque direi che a chiusura f8, 50 mm in nitidezza praticamente perfetta su tutto il piano, andiamo adesso a vedere la chiusura successiva f11, al centro noto un leggero decadimento della nitidezza, comincia già quindi a far capolino un po' la diffrazione e anche i bordi impastano appena appena, comunque già da tutta apertura fino a f8 la nitidezza è molto buona. Passiamo adesso a 100 mm, confrontiamo a tutta apertura, stavolta siamo a 5,6 mm, a 100 mm si passa a 5,6 mm con f8, andiamo a vedere al centro, vedete già tutta apertura, nitidezza veramente elevata e vi faccio presente che l'ingrandimento è al 200%, quindi veramente tanto, andiamo a vedere i bordi, già tutta apertura, vedete a 5,6 mm, la nitidezza è già buona e a 8 mm si guadagna qualcosina, andiamo a dare un'occhiata dall'altra parte, vedete da 5,6 mm a 8 mm la differenza è veramente minima, chiudendo ancora di uno stop comincia leggermente a impastarsi e al centro si perde anche lì un po' per diffrazione, quindi questo obiettivo confermo già adesso che è ottimizzato per l'apertura massima e si guadagna veramente poco andando a chiudere, diciamo che fino a f8 si guadagna, a 11 perde un po' di diffrazione, è un'ottima prestazione devo dire, pensando all'apertura relativamente bassa di questo obiettivo, è fatto per lavorare bene già tutta apertura, difatti a 200 mm guardate al centro, a tutta apertura e qui siamo a 6,3 mm, la resa è già molto elevata, come molto elevata vedete la differenza tra 6,3 e 8 mm veramente minimale, quindi già tutta apertura, una bella uniformità di resa su tutto il fotogramma, passiamo adesso a 400 mm, tutta apertura sempre 6,3 mm, vedete la nitidezza al centro, tutta apertura è già molto molto elevata, andiamo a vedere i bordi, questa griglia leggermente ma proprio leggermente impastata a tutta apertura a f8, la nitidezza è già elevatissima, quindi un ottimo comportamento a infinito. Andiamo adesso a vedere il comportamento a una distanza media di lavoro, qui siamo a 50 mm, a tutta apertura è 5,6 mm, andiamo sempre a fare un ingrandimento molto spinto, guardate la risoluzione già com'è veramente elevata al centro, andiamo a vedere i bordi estremi, leggermente ma proprio leggermente impastato, leggermente meno nitido ai bordi, a 5,6 mm già veramente super nitido, andiamo a fare un'occhiata a f8 e f11, f8 è il diaframma ottimale come quasi tutti gli obiettivi, guardate al centro, la risoluzione è veramente molto molto alta, e ai bordi a11 si comincia a vedere un po' di diffrazione, bella, veramente una bella bella prestazione. Passiamo adesso a 100 mm, andiamo a ingrandire sempre al 200%, qui probabilmente c'è anche qualche incertezza della messa a fuoco della Sony a7R II, non è sicuramente l'arma migliore della messa a fuoco, però devo dire che a 100 mm al centro non fa dare miracolo, chiudendo a f8 la nitidezza è già eccellente, ma comunque 5,6 è già più che sufficiente, quello che mi piace è che è uniforme su tutto il campo, vedete a f8 leggermente più nitido, ma 5,6 già si difende molto bene. Andiamo a vedere adesso a 200 mm sempre al centro, guardate la nitidezza veramente elevata che abbiamo sempre a 8, è il diaframma ottimale, ho capito di questo obiettivo, ma tutta apertura funziona sempre veramente molto bene, e anche i bordi, guardate si guadagna appena chiudendo a f8 rispetto a 6,3. Un'occhiata a 400 mm, qui basta veramente poco per avere un errore di messa a fuoco, ma guardate a 6,3 il comportamento già ottimo di questo obiettivo, che guadagna poco o niente chiudendo a f8, ripeto il diaframma ottimale, qui si nota già un po' di vignettatura, forse i bordi ci danno appena, ma veramente è una cosa infinitesima, quindi l'obiettivo a distanza media si comporta veramente molto molto bene. Ho fatto anche un paio di scatti, guardateli qua, alla distanza minima di messa a fuoco a 50 mm, che sono 25 cm per un rapporto di produzione di 1 a 2. Questo penso che sia il resto di un insetto, comunque apprezzate la notevole nitidezza, certo non è un obiettivo macro, però pensando alla gamma di focali coperte il comportamento è veramente eccellente. Guardate anche su questo, con questo qui l'ingrandimento 100%, guardate il dettaglio, il microcontasto veramente molto molto buono. Guardate le vennature di questa di questa fogliolina, ho utilizzato un tempo di scatto di un millesimo perché c'era un po' di brezza, chiaramente la macchina era sul cavalletto, però guardate l'ottima nitidezza su tutto il campo di questo 50-400. Ho fatto qualche scatto per darvi un'idea, girando per la città, per Parma, ho fatto qualche scatto, niente di che, niente di artistico, per darvi un po' un'idea di quella che può essere la resa di questo obiettivo. Qui ho fatto uno scatto a 50 mm a f8. Andiamo in grandire, esageriamo sempre, e notate il dettaglio veramente, f8 ripeto è il diaframma ottimale, ma qui di dettaglio ce n'è da vendere, è un comportamento veramente eccellente di questo obiettivo. A f11 avete visto l'obiettivo in pasta un po', ma niente di che, quindi vedete con l'immagine singola sicuramente, io non ho lavorato assolutamente il file, anche questo qui è un file esattamente come esce dalla Sony a7r2 che è un ottimo sensore, però l'obiettivo comunque non fa fatica a risolvere i 42 milioni di pixel, secondo me è un obiettivo che va benissimo anche su un 60, una 61 milioni di pixel. Questo è uno scatto sempre dello stesso particolare, stavolta a 167 mm a f11, un diaframma che non è l'ottimale, però guardate l'utilizzo è veramente molto buona, è a 6,3 che a tutta apertura, l'utilizzo è sempre elevatissima, quindi un ottimo comportamento. Ho fatto poi uno scatto a 400 mm a tutta apertura, guardate sicuramente di dettaglio non ne manca nella maniera più assoluta, andando a chiudere poi a f8 il dettaglio aumenta ancora. Un altro scatto su questo particolare, questo qui è il campanile dell'uomo di Parma, sempre a 400 mm, sempre a f8, guardate l'estrema risoluzione, risolvenza di questo obiettivo, devo dire che ne abbiamo provati abbastanza, ne abbiamo provati abbastanza di zoom del genere, in effetti dei 100-400 mm, però questo mi ha veramente piacevolmente colpito per l'ottima risoluzione. Un altro scatto, andiamo a ingrandire, vedete anche qua, risoluzione da vendere, già faremo ottimale, ripeto, f8, quindi se volete un'ottima prestazione, se l'acquisterete, lavorate a f8, anche a f11, nitidezza da vendere. Diamo un'occhiata adesso alle aberrazioni, qui siamo a 400 mm a tutta apertura, ho approfittato di questi amici, questo qui è un ingrandimento al 200%, vedete che l'aberrazione è presente appena, guardate questo particolare, questo leggero alune violaceo, non ho corretto l'aberrazione, però una prestazione comunque eccellente, probabilmente la nitidezza così alta è dovuta anche a una ottima correzione per quello che riguarda le aberrazioni. Chiudendo di circa un mezzo stop quel poco di aberrazione va quasi anche a scomparire. Ho fatto poi uno scatto a 300 mm sempre a tutta apertura, comportamento sempre molto buono, a f8 più o meno siamo sullo stesso livello, qui siamo a 135 mm, 132 per essere corretti, anche qua l'aberrazione è un lontano ricordo, a 50 mm abbiamo sempre un ottimo comportamento, sempre a tutta apertura. Valutiamo adesso il flare, ho fatto qui uno scatto a 50 mm a tutta apertura, direi che il flare è controllato molto molto bene, andando a f22 qui si nota l'effetto stella dovuto alle nove e le medie del diaframma e anche qua non ci sono immagini fantasma, non ci sono riflessi interni, qui siamo a 180 mm quindi una via di mezzo come come gamma di focali, qui anche qua comunque la tenuta al flare è molto buona, chiudendo a f32 l'effetto stella è comunque non eccellente ma piacevole e anche qui il comportamento dello strato antiriflessi del tangono si comporta perfettamente, qui siamo a 400 mm, la massima lunghezza focale, a tutta apertura, anche qui un ottimo controllo del flare, chiudendo a f32 l'effetto stella è meno marcato, comunque abbastanza piacevole, però mi interessava a vedere che non ci fossero fenomeni di flare, di immagini fantasma e riflessi interni. Valutiamo adesso quella che è la distorsione, diciamo che l'unico lato negativo di questo obiettivo è vero che comunque si può correggere facilmente in fase di post produzione, qui vedete a 400 mm la distorsione a cuscinetto è ben evidente, a 200 mm forse ancora di più, vedete la distorsione a cuscinetto è ben presente, a 100 mm anche qua è presente, a 50 mm la focale che soffre meno distorsione a cuscinetto è sempre presente, ma sicuramente vedete inferiore alle altre focali. Valutiamo adesso la vignettatura, qui siamo a 50 mm tutta apertura, vedete la vignettatura è un po' presente sicuramente, chiudendo di una frazione di stop va a calare per poi sparire completamente a f8, qui siamo a 200 mm, anche qua la vignettatura tutta apertura è un po' presente, vi faccio comunque, vi voglio far apprezzare la nitidezza veramente alta di questo obiettivo, è già tutta apertura, comunque continuiamo con la vignettatura, ha tutta apertura un po' presente, chiudendo di una frazione di stop a f8 va a quasi sparire completamente per poi sparire completamente a f11, qui siamo a 400 mm stesso comportamento, vi faccio vedere sempre l'eccellente nitidezza di questo obiettivo a tutta apertura, a f8 cala, a f11 sparisce completamente. Andiamo adesso a valutare quello che l'ho sfocato, qui siamo a 400 mm a tutta apertura e vedete che lo sfocato non è certamente paragonabile a uno sfocato da obiettivo specialistico da ritratto, però non è neanche troppo duro, non è troppo nervoso, qui ho fatto un altro scatto sempre tutta apertura per vedere la differenza fra appunto lo sfocato a tutta apertura e lo sfocato a f11, vedete quanto peggiora, quanto diventa molto più duro, molto più nervoso, nonostante sia discreto, ma sicuramente vedete in questo modo lo sfocato è abbastanza morbido, abbastanza pittorico, come si suol dire. A 300 mm il comportamento è abbastanza simile, vedete a tutta apertura morbido, direi quasi forse meglio rispetto a 400 mm e anche chiudendo a f8 rimane comunque sufficientemente cremoso. Ho fatto qualche scatto per valutare lo sfocato su delle linee molto secche, adesso fa di ingrandire questo particolare al 200% e si può notare comunque che c'è un certo sdoppiamento quindi mi conferma lo sfocato discreto ma non eccellente, c'è un po' di sdoppiamento dell'immagine, l'obiettivo che ha nello sfocato la propria arma non avrebbe questo, diciamo questo riverbero, questa specie di sdoppiamento sulle linee un po' secche e un po' dure. Comunque a 400 mm andiamo a ingrandire questo particolare, vedete vi voglio far vedere la progressione dello sfocato, è piuttosto netta, cioè non c'è una progressione plastica, non mi veniva la parola, è piuttosto netta, è chiaro che 400 mm la PDC anche a 6,3 non è elevatissima, però diciamo che lo stacco tra il piano a fuoco e fuori fuoco è piuttosto netto. Un altro scatto rubato, spero che questo amico di colore non se ne abbia male, per farvi vedere comunque la resa che può dare questo obiettivo 400 mm, l'ottima nitidezza anche tutta apertura, qui ho scattato a mano libera con un 5 centesimo, quindi anche lo stabilizzatore vi farò vedere a breve, funziona sufficientemente bene, sicuramente funzionerebbe molto meglio su una sony più recente rispetto alla 7r2, qui notate sempre un po' di durezza, ma comunque è un obiettivo che può darvi soddisfazioni senza pretendere comunque scatti da tipo un 400 mm 2.8, ma è un obiettivo che può darvi soddisfazioni proprio magari passeggiando per la città, ma anche facendo paesaggio. Questo è un tipico attrezzo di Parma, la bicicletta, qui si è comportato molto bene anche perché non ci sono linee troppo dure, vedete che lo sfocato è molto morbido, molto pittorico e la nitidezza comunque sempre elevata, sempre uno scatto a mano libera, nessuna correzione, si nota anche dal rumore, che qui siamo ISO 2000, c'è un po' di rumore, comunque la nitidezza è sempre apprezzabile a tutta apertura e lo sfocato comunque qui si è comportato veramente bene. Ultima cosa, andiamo a vedere la stabilizzazione. Io ho fatto uno scatto col tempo di sicurezza di un quattrocentesimo col 400 mm, è vero che la risoluzione è elevata, quindi devo stare un po' attenti, però al tempo di sicurezza, nonostante io non abbia una mano estremamente rocciosa, il comportamento è buono. Qui ho fatto un duecentesimo, quindi uno stop di vantaggio e la stabilizzazione funziona sempre efficacemente, un centesimo, sempre la stabilizzazione è molto buona, siamo due stop, a tre stop stabilizza ancora bene, a quattro stop si nota già un po' di micromossa, ma probabilmente è la mia mano che non è perfettamente ferma. A cinque stop la stabilizzazione non è più efficace, quindi direi che un tre stop e mezzo, quattro, non fa gridare al miracolo, comunque è una prestazione più che sufficiente e su una Sony più moderna sicuramente si possono guadagnare cinque, forse anche sei stop. Allora, il Tamron 50-400 devo dire che si è complessivamente comportato bene, ha un'ottima nitidezza praticamente su tutte le focali e questo non è scontato, è anche un'ottima nitidezza già tutta apertura, quindi per quello che riguarda nitidezza l'obiettivo è molto molto buono. La stabilizzazione, io è vero abbiamo un corpo macchina 7R2 che ha un sensore eccezionale però non è molto moderno sia come autofocus sia come stabilizzazioni, quindi mi sono appoggiato sullo stabilizzatore del 50-400 Tamron. Ho notato comunque una certa efficacia che mi permette a 400 mm di guadagnare circa quattro stop sul tempo di scatto e vi assicuro che non è scontato e non è poco. A livello di aberrazioni c'è un buon controllo anche sotto questo parametro, a conferma poi di quello che ho visto a livello di nitidezza. Distorsione, vignettatura sono nella norma, la distorsione forse diciamo che è l'unico difetto veramente di questo obiettivo però per il tipo di utilizzo che se ne farà non è un grosso problema, si può anche correggere distorsione, comunque è presente una certa distorsione a cuscinetto. Ma i test li avete visti, complessivamente quindi è un obiettivo molto valido tenendo conto anche del prezzo di acquisto, è un obiettivo che si può utilizzare anche a mano libera grazie alla stabilizzazione magari su un corpo Sony moderno, per dire un A7R4, un A7R4 secondo me riesce a dare il meglio, non stancherà troppo girando magari per la città o facendo anche un po' di caccia fotografica, certo 400 mm non è tantissimo ma se la mettete su un corpo Sony magari un A1 ma anche un A7R4 e croppate un po' vi trovate una focale circa di 600 mm potete utilizzarlo anche con una 6600 mm e quindi avere buone soddisfazioni anche sotto questo aspetto. Un obiettivo comunque particolare direi che l'unico 50-400, di solito dicevo sono 100-400, quei 50 mm, quella distanza ravvicinata che mi permette di fare un rapporto 1-2 quindi una vera e propria macrofotografia sono un armi in più, un obiettivo utile costruito bene, sicuramente bene, direi che Tamron ultimamente ha elevato parecchio la qualità costruttiva. E l'obiettivo con cui mi sono divertito, certo per avere nitidezza massima bisogna utilizzare un cavalletto, stare molto attento ai tempi di scatto, specialmente quando si usano lunghe focali anche il calore stesso ci può avere un abbassamento della nitidezza e non si deve dare a colpo l'obiettivo. Comunque la resa c'è, un obiettivo eclettico, non pesa troppo nella borsa, non pesa troppo nella tasca di voi fotografi. Detto questo spero di aver arrivato un'idea delle prestazioni di questo Tamron 50-400, vi ricordo di fare l'iscrizione al nostro canale, di spuntare la campanellina e vi ricordo anche i nostri corsi. In descrizione trovate tutti i link che vi portano alle pagine. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao.